Sicuramente siamo davanti a uno scenario completamente nuovo per l'industria manifatturiera, perché con la globalizzazione o mondializzazione molte cose sono cambiate, molte imprese purtroppo, dico purtroppo da buon italiano, sono costrette a delocalizzare, però quello che è importante è riconoscere agli imprenditori italiani la grande capacità di organizzare il lavoro, la creatività, l'innovazione, l'organizzazione commerciale, il marketing, che sono oggi gli elementi fondamentali per poter rimanere sul mercato. Io sono convinto che l'industria manifatturiera italiana non morirà se si rafforzerà, però i canoni del futuro saranno diversi di quelli del passato.